Signore e signori buonasera a tutti e benvenuti all'amaro del lunedì non sto ridendo perché questo potrebbe essere uno dei... cioè forse l'ultimo video che farò perché ho appena fatto il vaccino a Strazenza in Italia quella roba lì e appena sono tornato a casa l'hanno pure sospeso quindi praticamente... comunque è stato bello avervi conosciuto e come dicevo anche prima al gruppo Telegram vorrei soltanto essere ricordato come un uomo di pace e che aveva una grande passione per la patata allora buonasera a tutti questa sera partiamo... facciamo un video sulla falsa riga del precedente perché se vi ricordate noi abbiamo parlato la volta scorsa l'ultimo amaro due settimane fa abbiamo parlato di psicologia ci stiamo un po' lanciando anche sul mondo della psicologia ma così era una coincidenza perché vi avevo detto che prima o poi vi avevo parlato del mio problema patologico il perfezionismo patologico che ripetiamo è un problema non è che uno che si crede chissà qui anzi i perfezionisti patologici sono strapieni di problemi la cosa è piaciuta e ve lo farò leggere velocemente alcuni dei commenti che ho ricevuto che sono molto interessanti tipo grazie Stra che devo ringraziare perché mi sono rivisto in tutti i minuti del video ogni secondo l'ho sentito mio perché è così che agisco ormai da ragazzino Lucio Polvito argomento bellissimi grazie sono alibito di scritto perfettamente me mi ha messo davanti ad una verità che ignoravo mentre ascolto il tuo video mi viene da ridere sono il perfezionista patologico l'ho scoperto di essere alle rufi tre ore fa oggi che prima di oggi non sapevo di essere esattamente come hai descritto tu in questo video forse per gente come nella speranza è l'ultima cosa che ci tiene ancorate alla vita cioè in breve questa cosa mi fa riflettere perché ci sono tanti video che fanno divulgazione sulle patologie psicologiche come perfezionismo però c'è sempre bisogno poi che qualcuno ogni tanto ne parli dopodiché voi vi potete informare per i fatti vostri sono partito dal perfezionismo patologico perché è mia è roba mia ci soffro io e quindi l'ho condiviso con voi a questo giro invece parliamo sempre di qualcosa di mio ma non perché io sia narcisista ma perché purtroppo la più grande sofferenza amorosa della mia vita nasce perché e chi è del mestiere già può capire di cosa io stia parlando io ho conosciuto una ragazza narcisista covert che che ci crediate o no ragazzi è la cosa peggiore che vi possa capitare nella vita mi faccio il cicchetto che col vaccino ci sta pure bene allora quando ripenso a lei ci sta bene il cicchetto allora partiamo da qui per una cosa importante chi è narciso partiamo da questo presupposto perché i miti greci non sono non servivano solo anche per quello non solo per far addormentare i bambini la sera perché non c'avevano la televisione dovevano raccontare qualcosa i miti greci ragazzi erano veramente il succo la sostanza totale molto più dei detti e degli aforismi di oggi in cui i greci racchiudevano veramente la loro filosofia prendiamo narciso tutti sanno chi è un ragazzo troppo bello tutte le ragazze si namorano di lui ma lui non riesce a provare amore perché ama solo se stesso e ci siamo in pieno con l'arcisismo patologico ma c'è questo aspetto sottile che è fantastico della mitologia greca narciso morirebbe qualora vedesse la propria immagine questo è l'aspetto tipico del narcisista patologico di oggi voi potete beccare un perfezionista patologico che viene quello dice lo so eccomi ammetto il mio problema e andrebbe anche da uno psicologo volentieri a cercare di migliorare il narcisista patologico no non andrà mai da uno psicologo per andare a raschiare il fondo del barile e capire se stesso questa è una cosa molto interessante ed è bellissima perché vedete come il mito greco riesce nello specifico sempre a racchiudere proprio tutto 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 quello che si può dire alcune breve differenze ho trovato queste cose un po' su internet il perfezionista patologico ha un senso di insoddisfazione gigantesca insicurezza e paura del fallimento non ne parliamo proprio regole comportamentali inflessibili guai a toccare i miei pilastri le chiamo io le mie convinzioni altrimenti mi incazzo eccessiva preoccupazione per il giudizio degli altri non ne parliamo proprio chiedere a sé e agli altri per stasera di sopra delle proprie possibilità così posso fallire così posso dire l'avevo detto io che non ero pronto questa ve la spiego io da buon perfezionista il narcisista è tutt'altro mondo grande considerazione di sé bisogna di apparire bisogna costante di gratificazioni soprattutto questa reazione esagerata sconfitte e critiche scarsa considerazione degli altri difficoltà relazionale vabbè riazza al cacchio una persona così ha anche dei difetti ci mancherebbe soltanto buone relazioni con gli altri allora ma arriviamo al sodo come nasce questa cosa prima di iniziare vi racconto prima però brevemente la storia che è successa allora praticamente io avevo conosciuto a fine 2016 una ragazza una ragazza che ragazzi veramente io per lei avrei fatto di tutto la famosa ragazza ogni tanto vi racconto anche scherzando per lei sono andato due volte nella curva dell'inter io in mezzo agli interisti per lei ho perso 13-14 chili ho fatto una dieta pazzesca molte delle cose che voi conoscete di me sono per colpa tra virgolette di questa ragazza tipo ad esempio anche la fissazione con l'alimentazione la scalata perché ho iniziato a fare la rambiegata sportiva perché a lei piaceva ho fatto di tutto ci ho provato per oltre un anno e poi è finita perché lei mi ha fatto capire che non andava bene non andavo bene io per lei e vabbè alla fine non ho stato tutti questi sacrifici ho detto vabbè ci ho provato non ho rimpianti voi direte ma è questa narcisista? no dopo tutto quello che ho fatto per quella ragazza è finita tranquillamente passano tre mesi due tre mesi io tra l'altro mi ero detto dopo questa qui voglio riposarmi un po' ma devo un attimino devo stare un po' single tranquillo per i fatti e chi conosco una tipa una tipa completamente proprio anonima proprio sciacquata proprio una ragazza così sai di quelle non la ragazza che quando passa tutti si girano oh che figura no assolutamente una ragazza completamente anonima cioè in confronto a Betty Lacozzo è una figona per chi si ricorda il vecchio Betty Lacozzo un telefono proprio una ragazza normalissima le prime volte che l'avevo beccata mi dicevano ma sai che c'era anche quella lì e chi è quella? sì quella là non l'ho proprio vista cioè proprio anonima questa inizia lentamente a parlarmi e scopro che abbiamo tante cose in comune fantastico poi mi fa capire che è un forte interesse per me si fa dare il mio numero da una collega cose che poi pian piano piacciono anche mi racconta scrive dei messaggi dolcissimi mi contatta in continuazione in continuazione messaggi suoi cioè la classe è la ragazza che ci prova con te praticamente no? all'inizio boh non lo so non mi piace manco più di tanto vabbò però iniziamo a vedere vabbè adesso rispondo perché fa brutto quegli amori che nascono pian piano comunque ragazzi per farla breve dopo lei che mi aveva fatto proprio un'ipnosi totale alla fine mi innamoro mi innamoro e glielo dico cioè guarda senti innamorato perso cioè io praticamente già pronto proprio a sposare un matrimonio tutto appena dico questo dopo poche ore torno a casa mi scrive il messaggio guarda io ti vedo solo come un amico poi dopo un po' mi dice no ma voglio restare solo per sempre dopo un po' ho scoperto che dopo poche settimane ho iniziato a provarci con un altro ci sono stato male ma veramente male ti senti umiliato ti senti sconfitto ti senti come dire usato e gettato proprio monouso ti senti veramente ti dai dello stupido ti dai del una roba pazzesca una roba pazzesca poi dopo in seguito anche vedendo tantissimi video sul narcisismo patologico ho fatto 2 più 2 nel senso che ad esempio tipico però dopo parliamo delle cause comunque lei ci entrava in pieno cioè ragazzi veramente vi posso garantire ore e ore di video sul narcisismo patologico lei era proprio un cazzo di aspetto no proprio un narcisismo pieno 100% e ci sono stato male io avevo fatto anche un video su youtube per chi si ricorda era il periodo di carnevale di qualche anno fa io avevo detto ragazzi sto male se qualcuno di voi mi può aiutare aiutatevi poi alla fine mi ero incontrato con alcuni di voi tutto nasce per quel fatto lì cioè una roba pazzesca questa qui ragazzi io non auguro a nessuno di subire una delusione da una narcisista patologica cover ti peggiori in assoluto allora allo stesso punto adesso se qualcuno è curioso vediamo la differenza allora il narcisista sapete qual è no? è il classico tipo che esitate le aree che è convinto di essere il più figo no? io sono Romero il più figo del Colosseo cantavano gli aristocatti però ci sono due tipi di narcisismo anche se poi delle cose in comune ce le hanno quei punti lì un forte ego una forte autostima tendono a discriminare a disprezzare gli altri e così via però la grande differenza è questa l'hovert è quello che tutti conoscono come narcisista ho trovato questa immagine molto carina ovviamente grande macchinona io ho fatto statisticamente ho notato questa cosa spesso l'audi narcisisti overt hanno l'audi proprio la classica macchina da narcisista senza nulla se non voglio offendere chi ha l'audi magari non è per forza però può essere un punto in comune che hanno parecchi i narcisisti la macchina poi sono i classici tipi che stanno lì in palestra ore e ore ad allenarsi a guardarsi allo specchio a lanciarsi pure i bacini a loro stessi e cosa punto? beh puntano tutto sull'aspetto sulla roba così tutto strafigo ad esempio Instagram Instagram è fondamentale per un narcisista overt lui deve pure spendere tutti i soldi dell'estate per mezza giornata che deve andare in Sardegna affittare uno yacht farsi una fotografia per la mettere su Instagram e poi basta la sua estate finisce lì però adesso ha la foto su uno yacht in Sardegna vedete già qui la grande differenza con un perfezionista patologico perché il perfezionista patologico punta a relazioni stabili stabili solo che ha paura di lanciarsi e quindi rimane in eterna attesa mentre invece il narcisista se ne strafrega lui non vuole relazioni lunghe vuole solo conquistare si nutre della conquista si nutre comunque andando avanti quello un po' più complesso è il covert mi auguro che voi non abbiate mai beccato una così ho trovato questa immagine molto bella il lupo che si travesse da agnello pazzesco il covert è esattamente l'opposto del narcisista overt perché è anche un tipo di narcisista che noi non conosciamo cioè tutti noi senza aver studiato nulla di particolare poi andiamo in palestra giriamo da qualche parte e becchiamo il narcisista la narcisista covert quindi quella bella ragazza la figona pazzesca che dà chi a spiglio una figa invece covert chi è? sono i tipi anonimi normali fanno una vita normale anche un po' di pancetta un po' stempiati sei maschi cioè il classico tipo una persona normalissima però il covert lo devi scoprire ha tanti hobby tante caratteristiche così come l'over ti investe su se stesso spende soldi per vestiti per macchine per ore e ore di palestra il covert ti investe su se stesso in un'altra direzione investe sullo studio ha tanti hobby no? quindi dove sono i punti in comune? beh molto semplice calcolate che entrambi puntano se voi siete loro vittime puntano a questo devono conquistarvi quindi stupirvi ora come fa un overt a stupirvi? beh se una ragazza vi mette il seno proprio lo spapananza sotto gli occhi si minigonna e ovviamente crolli perché e poi soprattutto ancora peggio come si suol dire fa un po' la gatta morta si dice che se la fa un po' annusare e poi oppure delle volte non hanno sentimenti particolari loro sono macchine quindi che succede? sono così idem con l'overt maschio fa vedere i muscoli fa vedere la macchina e così via il covert come fa a stupirvi? beh è tutta una sorpresa vedi questa persona anonima una persona che sembra proprio l'ultimo degli interessanti sulla terra e poi ma dai hai una passione per i disegni i quadri si vedi tutti i quadri in casa me li ho fatti e sono pure bravi non dico che siano finti quindi veramente sono persone che hanno investito seriamente su loro così come l'overt fa ora in palestra magari è veramente un bel fisico la stessa cosa il covert i quadri li hai fatti ma tu per caso scrivi poesie si scrivo anche poesie ho pubblicato dei libri di poesie ma dai ma scusa ma mi piace molto quella giacca ti piace? l'ho cucita io ma che sai anche cucire sa fare tutto una persona piena di hobby viaggia quindi è una persona acculturatissima poi un'altra caratteristica del covert che è lì micidiale proprio perché è una persona in realtà priva di pathos però magari ve lo potete trovare che fa volontariato alla mensa dei poveri ebbene sì può essere la persona che sul suo ambiente di lavoro è stimatissima perché è una maschera e quindi automaticamente se voi chiedete a un collega ma com'è Mario? Mario è la perla dei ragazzi guarda veramente Mario non si discute Mario eccezionale lavora un po' per tutti non si lamenta mai è sempre di buon umore si sacrifica per gli altri il che ragazzi quando voi poi dovete come tipo è successo a me spiegare guardate che quella persona non è chi credete quella è una bastarda non vi crederanno mai penseranno che voi state rosicando quindi a quel punto che fai? fai vedere i messaggi in chat cosa? ma lascia stare fa niente tanto è così non ci guadagnate niente però capite anche la frustrazione di chi è vittima di un narcisista e che dopo non può neanche dirlo agli altri capito? e quindi è micidiale è micidiale scusate stavo ripensando a quella persona a quello che ho passato quindi è così ora calcolate che ci sono persone che fanno dei canali youtube interi a parlare solo di questi argomenti io sto riassumendo poi se vi interessa se avete un dubbio che forse avete conosciuto un narcisista o addirittura siete vittime in questo momento di un narcisista scappate scappa subito scappate e informatevi soprattutto adesso facciamo partire un po' la sigla della Mario andiamo avanti con le cause e poi andiamo a finire a One Piece bene allora come promesso le cause quali sono le cause che portano un narcisista a essere tale allora ci sono dei punti in comune fra tutti i narcisisti partiamo da quello ad esempio vi troverete una persona che inizierà a raccontarvi tante robe brutte sull'ex puntualmente il narcisista ha sempre avuto un ex che lo maltrattava la maltrattava la offendeva la umiliava ovviamente anche quello come minimo aveva questo ex che la la trattava proprio male ma come la trattava un'altra caratteristica sono hanno famiglie piuttosto strane tipo per dire vigila di Natale no io la passo da sola a casa mia mia sorella da sola a casa sua e i miei genitori da soli a casa loro ma che cazzo di famiglia siete sono famiglie strane quindi se sentite anche robe strane così con l'unica chicca che è il covert siccome deve fare sempre la parte della persona eccezionale poi non sia mai un parente sta male eccetera allora poi deve far vedere a tutti che arriva lì al lavoro no ragazzi scusate sono in crisi perché ieri mio padre ha fatto le analisi così tu poverino deve far vedere in realtà cosa ne sbatte perché non hanno sentimenti micidiale ok queste sono alcune caratteristiche ovviamente poi cambiano un po' alcune cose il covert punta una persona solitamente perché poi si diverte a stupire il covert è un po' come se fosse un mago il mago magari ha imparato 4-5 trucchi di magia e li può usare per stupire una persona però li può usare una volta poi spiego anche il trucco e dopo che sfizio c'è e allora cosa puoi fare se io vi faccio vedere il primo trucco il secondo trucco il terzo trucco tu fai wow mamma mia che figo che sei e poi dopo basta non ho più roba per poterti stupire passo appresso ti scarto e cerco un'altra persona guarda questo trucco di nuovo wow quanto sei figo cioè questo è il meccanismo mentre invece l'overt si diverte si nutre si nutre di complimenti l'overt quindi il sogno di ogni overt si sveglia al mattino cellulare messaggio oh Mario come sono stato bene con te ieri sera Giulia questo è Giulia poi arriva il messaggio di Rossana alle 10 ehi Mario oggi a pranzo insieme poi arriva il messaggio di Elena verso l'una del pomeriggio stasera andiamo al pub ci sei anche tu senza di te non mi diverto e quindi lui capito si casa ricevere messaggi da tante un harem lei ovviamente anche lei il collega che ci prova disperatamente con lei quello lì che le sbava dietro e lei che si diverte da avere tutti questi uomini che sbavano dietro di lei ecco questa è un'altra caratteristica e cambia un po' i modi però alla fine quello è ma le cause dicevamo beh principalmente come sempre la famiglia uno dei problemi principali è ad esempio avere un genitore inaffettivo che abbraccia poco che bacia poco una mamma che non dà un bacio a un figlio che non abbraccia mai un figlio il figlio se ne accorge ma perché le altre mamme al parco gli altri bambini l'abbracciano proprio ora c'è il covid non si può però per dire no e però un'altra caratteristica è che tipico quando si chiude la porta all'interno di casa nostra è un mondo fuori da casa nostra si va in scena quindi quindi un bambino vive con un genitore che dice mi raccomando eh mi raccomando dopo viene una mia amica a non farmi fare brutta figura vabbè sono raccomandazioni tipiche che ci hanno fatto un po' tutti i genitori ma quando tu vedi tua madre che davanti all'amica ti prende e ti sbacciuccia oh mio figlio quanto mamma mia oh sapete ah ma poi adoro mio figlio ah dirglielo eh che ieri abbiamo fatto e tu pensi ma quando mai e mamma facciamo tutte queste cose faccio un esempio poi l'amica se ne va si trasforma di nuovo completamente sta stronzo magari ti esce pure mamma e tu capisci che proprio è tutta una finzione il mondo lì fuori è solo ed esclusivamente una finzione gli altri servono solo per ricevere complimenti cioè alla fine perché mamma fa così con questa amica perché lei vuole fare bella figura con tutte le amiche cioè capito quindi è tutta una questione di apparenza e basta ma dentro di te tu non provi nulla non riesci proprio ad affezionarti a qualcuno quindi anche se il narcisista covert siccome investe molto su se stesso può sembrare quasi un perfezionista ma sono due cose completamente diverse anche proprio negli obiettivi di relazione il perfezionista patologico è uno che si caga sotto e basta alla fine eccomi qua e quindi queste sono le cause capito ok basta poi ripeto se l'argomento vi interessa e soprattutto se pensate di avere anche un gelitore magari così e pensate di poterlo essere mi era sembrato di aver letto già un commento qualcuno che aveva detto io sono narcisista patologico perché non sono persone che vanno prese e vanno linciate anche se poi quando vi fanno del male un pochettino la tentazione ci sarebbe ma sono semplicemente patologie bisogna conoscerle e mi raccomando non cascateci cioè non fidatevi di tutto quello che vi dicono determinate persone soprattutto i covert state proprio attenti ho conosciuto una persona guarda eccezionale questo ragazzo questa ragazza quante cose che fa ma sicuro Superman in confronto è un bastardo proprio veramente è una persona un eroe è il mio super eroe calmi pensateci bene informatevi e arriviamo a One Piece ma facciamo più che altro un gioco dai secondo voi la luce di tutto ciò che abbiamo detto finora su questo tipo di patologia secondo voi quali personaggi potrebbero essere narcisisti overt e covert allora buttata lì io ne preparo due poi voi pensateci perché esempio la volta scorsa come perfezionista qualcuno aveva tirato fuori che comore che a me non era venuto in mente e ci può anche stare allora per me il narcisista overt assolutissimamente è lui Doflamingo un po' perché è cresciuto giustamente come un drago celeste anche se i suoi genitori in realtà erano buoni Don Quixote homing per l'amor di Dio non si discute però lui ha subito proprio tutti gli effetti del vivere in un luogo dove praticamente si credevano degli dèi e così via lui è convinto di diventare Redi Pirati con l'aghi dei Reconquistatori e poi gliel'hanno fatto anche credere Trebole e tutti gli altri quindi Doflamingo è assolutamente un overt ma poi oltre al fatto ovviamente con legamento logico è un pavone perché i Cici Bucca all'inizio erano tutti legati ovviamente a un animale e quindi automaticamente è cioè un pavone si pavoneggia con la sua coda da pavone e quindi ci sta l'overt a tutti gli effetti tra i covert alla fine alla fine mi è venuto in mente ditemi se vi piace come idea lei madre Caramel madre Caramel è il classico personaggio covert voi ve la trovate così un personaggio che aiuta tutti salva i poveri bambini e poi in realtà sotto sotto azioni losche una doppia faccia pazzesca soprattutto una persona che salva i bambini e poi li vende alla marina con un traffico umano di bambini tu non puoi avere un briciolo di empatia altrimenti non riusciresti a fare una roba del genere quindi una persona che si spaccia per una santa e poi in realtà non ha un briciolo di empatia non ha un briciolo di capacità di provare amore per nessuno avete solo lucro e convenienza e poi soprattutto si nutre comunque della grande stima entrambi chi overt e chi covert ha bisogno comunque di sentirsi dire oh quanto sei bravo quanto sei fin la stima di tutti questi sono due esempi giusto per capirci in conclusione l'astrofilosofia che ci deve sempre stare come collegamento ultimo e supremo in tutti i video di strike perché aiuta tanto l'astrofilosofia perché uno dei principi che come sapete si rifà molto alla filosofia di Deleuze filosofo che in questa rubrica di amare avevo presentato come uno dei miei preferiti se non addirittura il preferito in generale su certi temi Deleuze ad esempio in generale l'astrofilosofia ci insegna l'umiltà che è quella che manca al narcisista in assoluto nel senso che una caratteristica ad esempio del narcisista patologico è di sentirsi al centro di qualunque progetto se ho un rivale al lavoro che il capo ci adora entrambi io lo odio ma io lo odio proprio non è che ho un minimo di rispetto io lo odio se lui dovesse venire licenziato io ci godrei se lo vedessi in mezzo alla stata ridotta in fame io godrei ancora di più cioè il narcisista patologico non ha pietà per nessuno un'altra caratteristica tutti i suoi colleghi fanno tutti quanti schifo sono tutti idioti lui è l'unico buono capito e anche in amore pian piano il narcisista patologico qualora diventasse un partner tenderebbe lentamente a distruggervi tenderebbe lentamente a proprio disintegrare la vostra autostima perché più la vostra è distrutta più la sua cresce quindi sono tanti tanti cose tanti argomenti poi le varie tecniche il love bombing il mirroring qui poi ripeto ci sarebbe da informarsi su come fanno sulla parte iniziale dove c'è il bombardamento d'amore e poi lentamente vi distruggono e così via il love bombing è quello che raccontava all'inizio di quella ragazza che mi girava intorno si chiama love bombing quella fase lì fino a ti riempiva di attenzione di messaggi per poi scomparire all'improvviso quindi sono caratteristiche l'astrofilosofia in cosa vi aiuta perché uno dei principi fondamentali è l'umiltà cioè che è tipico guardi le stelle guardi l'universo guardi le dimensioni di tutto e dici ma noi siamo troppo piccoli rispetto a tutto questo è di allora che inizi a cambiare completamente il punto di vista questo però ovviamente è un aiuto per noi ma ripeto un narcisista difficilmente accetterebbe di curarsi perché proprio come mito di narciso qualora guardasse troppo profondamente nella sua anima morirebbe affogato bene io spero di aver salvato qualcuno di voi spero che il video sia stato interessante anche a sto giro e qualora il vaccino stanotte non mi ammazzi ci vediamo prossimamente magari anche già da domani sull'altra piattaforma per continuare a giocare un po' qualche video c'è un fifa qualcosa ma vediamo detto ciò vi saluto mi raccomando ragazzi fate i bravi ciao buonanotte